Musica Oggi faremo un viaggio nella storia, nell'archeologia. Oggi avremo come ospiti degli importanti scrittori, ricercatori di fama nazionale e internazionale che ci guideranno attraverso i misteri della storia. E soprattutto siamo convinti che riscoprire i valori della storia, quindi le nostre origini, da dove proveniamo, le nostre radici, sia importante per capire il presente e dargli un valore, soprattutto in un momento storico come questo. Quindi segreti in cielo, eresie sulla terra. Tra l'altro dietro la parola eresie si nasconde un significato immenso, in realtà deriva dal greco, eresis, che significa prendere, leggere. In realtà all'inizio non era un significato negativo, per esempio gli stoici o i presocratici. Ha iniziato a diventare una connotazione negativa nel Nuovo Testamento, i Corinti, i Galati, negli Atti delle Apostoli. E dietro questa parola, eresia, sono state bollate in realtà molte conoscenze, ermetiche, sapiensali, che oggi vanno riscoperte. C'è un grande interesse da parte del pubblico nei confronti di queste tematiche. E oggi gli illustri relatori che abbiamo come ospiti ci spiegheranno tutto questo. E lascio la parola a Tom Bosco, che è il direttore di Nexus. Diamogli il benvenuto, un applauso. Io vi auguro una buona giornata e grazie mille. Grazie a te, magnifica presentazione. Io sono, perché non mi conoscesse, il direttore responsabile dell'edizione italiana di Nexus New Times e come casa editrice di Nexus Edizioni pubblichiamo due riviste, Nexus e Punto Zero e più dei libri. Alla fine il materiale che noi pubblichiamo, le informazioni, le notizie, si rifanno proprio a quanto è stato detto un attimo fa, nel senso che stiamo facendo questo lavoro in un momento storico in cui un patrimonio di conoscenze comincia a essere riscoperto, nonostante una certa opposizione da parte dell'establishment. Avrete notato che nella cultura odierna si tende a celebrare quei grandi personaggi del passato che innescarono delle rivoluzioni, andando controcorrente al pensiero della loro epoca, e però non ci accorgiamo che noi facciamo lo stesso nei confronti dei ricercatori e degli innovatori di questa epoca che vengono osteggiati, chiamati visionari, complottisti o usate un po' voi l'etichetta che meglio si aggrada. D'altra parte non mi stupisce perché mi riallaccio un po' a quanto diceva Orwell, chi controlla il presente controlla il passato e chi controlla il passato controlla il futuro. E questo è proprio il meccanismo attraverso il quale si mantiene uno status quo e noi facciamo fatica a riscoprire veramente le nostre origini, le nostre radici. Ormai un sacco di notizie, di indizi, ci fanno intuire che c'è qualcosa che, tra tutto quello che ci viene raccontato attraverso il sistema educativo, attraverso i media, i giornali e televisioni, c'è qualcosa che non funziona nella storia che ci viene somministrata.